Benvenuti a questo nuovo video, intanto volevo ringraziarvi perché il mio precedente video ha avuto circa un migliaio di visualizzazioni è un servizio che faccio molto volentieri ai miei colleghi docenti, ai docenti di tutta Italia tant'è che ora tra l'altro le misure si sono ulteriormente inasprite non so se torneremo a scuola il 16 di marzo, un po' ci spero, non sono molto ottimista e fino ad allora faremo didattica in questa maniera con i miei ragazzi perché chiaramente questi video servono anche a loro, ma anche con gli altri docenti di tutta Italia per insegnarvi come fare delle lezioni a distanza con dei mezzi molto semplici nello specifico con il nostro immancabile telefono che ad oggi è lo strumento in assoluto più diffuso di questo tipo intanto approfitto per ricordarvi che questa epidemia di coronavirus è una cosa seria cerchiamo di rispettare quelle che sono le norme, a parte per ragioni diciamo legali ma anche perché indipendentemente dalla pericolosità o meno per ciascuna persona di questo virus finché non verrà fermata questa epidemia è chiaro che la vita non tornerà alla sua normalità per cui sarà bene cercare di essere i più saggi possibile allora, cosa vediamo oggi? oggi vediamo come fare a fare sempre un video, sempre in maniera molto semplice però invece che prepararsi del materiale su carta e filmarlo con la fotocamera del telefono andiamo a vedere come fare un video da del materiale che abbiamo già sul telefono per esempio potrebbero essere foto, potrebbero essere immagini che ho scaricato da internet in questo caso ho scaricato delle immagini a tema sumeri perché sennò magari mi viene detto che mi focalizzo troppo sulla matematica e l'idea è che quello che faremo sarà riprendere direttamente dal telefono lo schermo del telefono cioè, i ragazzi saranno in grado di vedere quello che vedete voi sul telefono e sentire contemporaneamente la vostra voce ovvero, è come se io spiegassi una roba su un sumeri qui sto spiegando qualcosa poi vado avanti, ne spiego un'altra vado avanti ancora, eccetera, ne spiego così, l'equivalente è quello sostanzialmente di delle slide automatizzate delle diapositive con la vostra voce sopra allora, andiamo a capire cosa serve per fare questo lavoro intanto, chiaramente serve il materiale fotografico che possono essere, abbiamo detto, immagini, disegni fotografie dei vostri libri se avete dei libri di testo magari con degli schemi fatti bene potrebbe essere molto utile per spiegare delle cose con delle belle mappe concettuali che potete fare e poi serve un'applicazioncina apposta allora, io ho un telefono Android per chi non fosse, diciamo, molto scafato in questo ambito i telefoni ad oggi diffusi di tipo smartphone appartengono a due grandi categorie ci sono gli iPhone che sono i dispositivi di Apple e poi c'è un altro sistema operativo si chiamano sistemi operativi perché sono di fatto tali sono l'equivalente, diciamo, di un Windows c'è un altro sistema operativo molto diffuso che è contenuto nei telefoni in realtà di molte marche differenti sostanzialmente di tutte le altre per cui se avete uno smartphone che so, Huawei, Samsung, Xiaomi, eccetera il vostro sistema operativo è Android lo potete riconoscere perché c'è il Play Store perché è legato al sistema di Google, eccetera ma comunque, in generale, se avete un telefono di queste marche 99 su 100 c'è dentro Android allora, andiamo a vedere qual è l'applicazione che andremo a usare allora, ci sono varie applicazioni che voi potreste usare io ve ne consiglio una perché è quella che so utilizzare io ma chiaramente non c'è scritto in nessuna parte che sia la migliore del mondo se ne sapete già usare una, benissimo e purtroppo, in questo caso, non posso aiutare gli amici Apple tuttavia, sono sicuro che ci siano delle applicazioni simili come al solito, potete trovare queste applicazioni sul Play Store in questo caso, l'applicazione si chiama Screen Recorder purtroppo, ora non si vedrà molto bene tra l'altro, questa possibilità di filmare lo schermo del telefono io la utilizzerò anche prossimamente in maniera tale che voi possiate vedere meglio cosa faccio io perché questo metodo, adesso della webcam che utilizzo ha ovviamente i suoi limiti allora, l'applicazione si chiama Screen Recorder e si riconosce perché c'è questo pulsantino blu con dentro una telecamera allora, se io apro Screen Recorder mi viene una nella prima volta che faccio video io ho cancellato i precedenti mi viene al solito un pulsantino in basso a destra che mi crea questa barra dei pulsanti allora, l'utilizzo base di questa applicazione è molto semplice c'è un pulsante rosso sulla sinistra che vedete qua che fa partire la registrazione dello schermo quando voi lo cliccherete partirà un timer e terminato il timer partirà la registrazione la registrazione comprende sia lo schermo sia il microfono del telefono per cui voi potete parlare sopra le slide ora faremo un breve esempio vi dico subito che metterò il telefono in orizzontale in questa maniera qua e c'è un motivo per cui lo faccio il motivo è che i vostri studenti possono vedere facilmente un video del genere sia da telefono tenendolo in orizzontale sia dallo schermo di un computer inoltre moltissime immagini hanno un formato orizzontale piuttosto che verticale per cui andiamo a vedere che succede poi ovviamente finito il filmato io che utilizzo dei programmi di montaggio video per fare questi video lo attaccherò dietro per far vedere qual è il risultato allora andiamo a fare una prova ora parte il timer 3, 2, 1 allora questo è un video esplicativo sui sumeri questa è un'immagine sui sumeri quest'altra è un'altra immagine sui sumeri qui io chiacchiero sullo zigurat bla 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 ci sono i sumeri sono contenti si fanno guerra eccetera 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 come faccio a interrompere ora chiaramente questa parte di come faccio a interrompere se io non ho già interrotto apparirebbe nel video io la taglierò in questo caso come si fa a interrompere si scorre giù col dito e vedete c'è una scritta controlli di registrazione c'è ferma appena io clicco ferma purtroppo ovviamente questo farà parte in fondo nel video però diciamo è una piccolezza che succede? succede che io ho interrotto la registrazione per cui se io a questo punto torno all'applicazione cosa ottengo? ottengo che qui in cima c'è il video che ho fatto io io posso selezionare un'applicazione per rivedere il video e ci sarà l'effetto questo è un video esplicativo sui sumeri come vedete è molto semplice allora questo è un video esplicativo sui sumeri questa è un'immagine sui sumeri quest'altra è un'altra immagine sui sumeri qui io chiacchiero sullo zigurat bla 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 ci sono i sumeri sono contenti si fanno guerra eccetera 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 per cui a questo punto cosa manca? manca solo al solito di condividere il nostro lavoro con i nostri studenti per cui andiamo al solito sul nostro google drive che ho spiegato bene nelle ultime due lezioni e sempre con il nostro pulsantino più andiamo su carica andiamo su video e ovviamente avrò a disposizione il video che dovrà essere caricato e poi condiviso come spiegato nelle ultime due lezioni grazie a tutti Grazie a tutti